Sabato 19 settembre torna a Castiglion Fiorentino DJs for Children L'evento di beneficenza a favore dell'istituto comprensivo di Castiglion Fiorentino In console DJ Nicola Lucioli, Mr. Leo, Luca T, Paolo Occhipinti, Gabriele Parri, Alex Paolelli, Filippo Giugno Giuliattini, Riccardo Ricci, Mirko Bano, Lorenzo Caperoni, Vocalist, Diego Grazzi, Alessio Saracini, Paolo Etiope, Stefano Letizia, DJs for Children Presenta Superpedi, DJs for Children Ti aspettiamo sabato 19 settembre presso i giardini pubblici Piazza Matteotti di Castiglion Fiorentino Ingresso libero, DJs for Children Noi siamo pronti, e tu?